Al palco della musica, IPPF, ovvero Past, Present, Future, Passato, Presente e Futuro. Mauro Cantonetti è la voce guida di questo gruppo, il capogruppo, fondatore? Ma sì, fondatore, cantante, leadership, frontman, chiamalo come vuoi, ma alla fine un musicista come i miei, allo stesso livello. Perché siete altri uguali? Beh, lui è un po' più bassino, guarda, nonostante sia con l'età, diciamo, il più esperto. È più giovane? È più esperto, secondo me ha potenziale per arrivare a un buon futuro roseo, questo giovane tasterista.